Certo, ti vediamo in questo video i segni zodiacali più belli dello zodiaco. Allora, al quinto posto troviamo la Vergine. La Vergine è un segno che comunque spesso sono esteticamente belli e prendono anche cura di se stessi. È un segno anche decisamente difficile, ma diciamo talvolta sembra bello e impossibile, o bella e impossibile. Il suo punto forte sono gli occhi e lo sguardo, un atteggiamento, uno sguardo magnetico. L'uomo della Vergine spesso ripeto, viene visto come bello e impossibile. Al quarto posto troviamo il cancro. Il cancro è spesso un segno esteticamente piacevole, prende cura di se stessi, soprattutto le donne possono sorprendere dal punto di vista fisico. Quando si vogliono rendere attraenti, belle, sensuali, seducenti, lo sono veramente. Al terzo posto troviamo il segno dei pesci. I pesci, diciamo, hanno una bellezza eterea, una bellezza leggera. Sono persone decisamente attraenti. Il loro punto di forza, ad esempio, sono le mani. Riescono a conquistare tutti con mani decisamente eleganti, capaci di far innamorare, anche grazie a un tocco leggero. Al secondo posto troviamo il capricorno. Sembra decisamente strano trovarli in questa classifica, tra virgolette, anche perché generalmente è conosciuto come un segno poco accattivante. Però sotto la sua apparente freddezza e un atteggiamento spesso distaccato, il capricorno, diciamo, hanno un carattere dolce. Il loro punto di vista, dal punto di vista fisico, il sorriso e, diciamo, la capacità di sciogliersi anche talvolta in una risata, la rendono anche bella e attraente. Ma al primo posto svetta il segno della bilancia. La bilancia è il segno più bello dello zodiaco. La bilancia è un segno ammagliatore, sempre curatissima, affascinante, elegante. Sa sempre cosa indossare per valorizzarsi, come vestirsi, come porsi. Sono estremamente curati e il punto di forza, normalmente, è il viso. Un viso pulito, dolce, molto, molto attraente, con un make-up spesso ipercurato. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco, anche gli altri canali di YouTube, crescita personale, felicità, benessere, ma l'autostima. Attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su TikTok e su Instagram. Ciao!